Andrea e Rosalinda sono sempre più complici e regalano spesso dei siparietti divertenti al loro follower. Il loro amore a distanza di tre mesi sembra rafforzarsi ogni giorno e la coppia sembra inseparabile. Anche questo fine settimana, la coppia si trovava insieme e la Cannavo ha pubblicato un video a dir poco piccante. In una delle sue storie Instagram, Zenga è seminudo per la felicità delle fan. In questo video si vede Zenga che è in bagno intento a lavarsi i denti davanti allo specchio. Rosalinda si avvicina in silenzio, lui si accorge di essere ripreso e si nasconde chiudendo la porta. Nel video caricato Rosalinda scrive, My love. La coppia da giorni si sta occupando del trasloco, ma ormai dovrebbero essere quasi alla fine. A breve potremo vedere i nuovi siparietti che i due ci regaleranno nella nuova abitazione. Probabilmente per Rosalinda e Zenga in questi mesi ci saranno tanti cambiamenti. Potremmo vedere uno dei due nuovamente in tv. Ad esempio l'ex Geffino potrebbe veramente condurre un programma sul calcio come ha sempre sognato. Magari rivedremo la Cannavo in tv come attrice o come cantante. Chi può sapere cosa è il loro percorso gli riserva per il futuro. A noi non resta che aspettare le prossime notizie e se volete sapere come prosegue la loro storia ricordatevi di iscrivervi al canale.